3 candidati sindaco e 2 corazzate con alleanze trasversali sono ad oggi 3 i candidati ufficiali alla fasciata i colori a sarno vincenzo sirica con azioni francesco squillante per il centro sinistra e giovanni cocca per il centro destra dagli schieramenti attuali però qualcuno è rimasto fuori qualcun altro cerca un posizionamento politico per uscire dall'angolo prima che sia troppo tardi del resto le liste sono quasi tutte già pronte ed il rischio di non riuscire a trovare più una sintesi è concreto oggi a restare momentaneamente in disparte e forza italia dopo che domenico crescenzo papabile alla candidatura sindaco ha ritirato la sua disponibilità una scelta forzata dalle condizioni politiche venute meno il partito azzurro abbandonato prima da lega poi da noi moderati e quella che fino a poche settimane fa erano ipotetica coalizione pronta a presentarsi agli elettori senti fatto sfaldata un gruppo quello di forza italia che poteva fare la differenza essere determinante ed in qualche modo dettare le linee del centro destra ma che oggi si ritrova isolato e anche quasi scaricato e sono proprio gli azzurri ore a dover tirare le somme verificare ancora le condizioni politiche capire come muoversi destra qualche perplessità il silenzio degli esponenti cittadini di forza italia davanti alla decisione di crescenzo che potrebbe da solo prendere una posizione a questo punto e non seguire più la linea del partito del resto sarebbe complicato per lui andare ad appoggiare chi oggi lo ha lasciato solo alla luce degli ultimi episodi non ravvisando le condizioni politiche ha detto crescenzo ritiro la mia disponibilità alla candidatura a sindaco ma poi nella nota si legge anche mesi di peripezie scontri all'interno del partito di forza italia nonché tensioni con gli altri partiti di centrodestra che inizialmente avevano deciso di appoggiare crescenzo come sindaco il percorso verso la candidatura è stato segnato da un continuo tiro in molla nonostante ciò crescenzo già il più votato dell'opposizione alle elezioni amministrative di cinque anni fa detiene un peso significativo che potrebbe influenzare le prossime elezioni di giugno la sua decisione potrebbe plasmare il destino politico di sarni in modo determinante a quanto pare dunque l'avvocato sarnese è pronto a far sentire il suo peso politico e di preferenze e proprio questo potrebbe portarlo a guardare anche da qualche altra parte dopo che la lega aveva cambiato rotta andando ad appoggiare il candidato di fratelli d'italia giovanni coc e poi noi moderati crescenzo potrebbe non sentirsi né al sicuro né valorizzato solo pochi giorni fa era stata paventata l'idea delle primarie lanciata proprio dal candidato di forza italia a quanto pare un'idea però bocciata dagli esponenti del partito della miloni perché avrebbe significato mettere in discussione il proprio candidato tra l'altro ufficializzato da mesi cosa farà crescenzo è un interrogativo che intanto resta